Leonardo Silva Revisore Che cos'è che qualifica, che cos'è che rende importanti, cos'è che dà valore alle nostre relazioni d'amore, alle relazioni sessuali, quello che cerchiamo nel rapporto fra genitori e figli? Se lo è chiesto una ricerca molto interessante, quello che è emerso è questo, quello che noi cerchiamo è uguaglianza nei diritti e nelle responsabilità, dialogo e assenza di potere arbitrario, assenza di violenza. Ma a pensarci bene, questo tipo di valori non sono altro che i valori fondanti della democrazia. Anche la democrazia, il vivere democratico, al di là di quelli che sono i rituali della democrazia rappresentativa, si organizza intorno a questo tipo di valori qui. Tanto che potremmo parlare di democrazia degli affetti. La vita democratica, i valori della democrazia, sono entrati nella nostra vita di relazione, nel nostro quotidiano, nella nostra vita affettiva e intima, molto più di quanto forse non ci è sembrato. Se ci sono questi requisiti, se c'è dialogo, se c'è parità, se c'è rispetto, se non c'è violenza, non sempre va così, ma quando non va così stiamo male, siamo scontenti, ma quando queste condizioni si realizzano la nostra vita funziona. La nostra vita funziona, ma se sono anche i requisiti della democrazia, allora funziona anche la democrazia. Far funzionare la democrazia è la conclusione, ed è il titolo di un libro di un famoso ricercatore di Princeton, Putnam, il quale dopo un decennio di ricerche fatte proprio qui in Italia, proprio lì in Italia, ha pubblicato un libro, Far funzionare la democrazia. Cos'è che fa funzionare la democrazia? Se la democrazia è collaborazione, rispetto, interesse per la vita pubblica. Quello che fa funzionare la democrazia sono quell'insieme di valori lì. Quello che fa funzionare la democrazia è quello che conta nella società, è quello che rende conto anche dello sviluppo economico, dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche, delle istituzioni, della sanità, della giustizia, del sistema scolastico. È quello che ci dà ragione del variare dei tassi della criminalità. È quello che ci dà anche ragione del variare delle condizioni di salute mentale e fisica della popolazione. E tutto questo lo si può raccogliere e definire con un concetto. Capitale sociale. Il capitale sociale è una forma di ricchezza, ma è una ricchezza che non sta nella tasca delle persone, ma è qualcosa che è in mezzo alle persone, che è nella relazione delle persone. Una società dove si vive bene è una società dove c'è una alta dotazione di capitale sociale, e quindi sviluppo economico, efficienza delle istituzioni, bassi tasse di criminalità e alte condizioni di salute. quindi una società dove si vive bene. E quindi capitale sociale e felicità, felicità individuali, sono legate insieme. La felicità si può misurare, ma è misurabile con fattori non quantitativi, non dipende unicamente e non dipende così proporzionalmente dall'entità del reddito. non contano i beni di consumo, contano i beni relazionali, conta un servizio sanitario efficiente, la piena occupazione, la qualità delle nostre relazioni personali, la sicurezza, la stabilità. Il problema è che sicurezza, stabilità, piena occupazione sono, come dire, parole che non appartengono più a questo tempo. Questo sembra essere il tempo nel quale la felicità è legata a piaceri incerti. Questa era la pubblicità di una compagnia telefonica. Però rappresenta lo spirito del tempo, rappresenta il fatto che le nostre relazioni affettive, i nostri rapporti di lavoro, non sono dati una volta per tutti, non sono per sempre. possono essere messi in discussione, la nostra vita non è più definita e non può più contare su cose stabili. Ci sentiamo e diventiamo vulnerabili. La precarietà è qualcosa che caratterizza la vita dei moderni. Naturalmente questo è una parte, è un modo di raccontare la realtà. In 15 minuti la realtà è molto più ricca e molto più complessa di come ve la sto raccontando io. Ma questi mi sembrano degli elementi caratteristici che mi piaceva presentarvi oggi. E anche il futuro è cambiato. Le generazioni passate, fino a poco tempo fa, i figli sapevano che sarebbero stati meglio dei loro padri. Questo oggi non succede più. Oggi il futuro non è più una promessa, ma è diventato una minaccia. E questo non solo per quello che riguarda le traiettorie di vita individuale, le nostre cose personali, appunto il lavoro, gli affetti, ma anche a una visione più globale, l'inquinamento, la sovrappopolazione mondiale, tutti quei problemi, la migrazione incontrollata, per esempio. Sono tutte quelle cose che rendono il futuro come una terra oscura, piena di nubi minacciose. E allora se il futuro diventa una terra nella quale è meglio non andare, che cosa succede? Succede che ci rimane il presente, succede che noi ci ripieghiamo su se stessi, succede che questo può essere definito come il tempo di Narciso. Narciso ce lo racconta meravigliosamente nelle Metamorfosi Ovidio. Si chiude in se stesso, vede solo se stesso, il narcisismo, non solo come psicopatologia, ma anche come fenomeno di, come narcisismo di massa, come fenomeno diffuso. E l'attenzione solo ai propri bisogni, e l'inpreoccuparsi solo di se stessi, in tutti i piani, nella vita di tutti i giorni, nella vita lavorativa. L'esempio che vedete dei cowboy della borsa, che sono dieci anni proprio adesso, che ricorda lo scandalo della Lehman Brothers, e cioè non importano le conseguenze di quello che faccio, quello che importa è solo il mio tornaconto, raccontato molto bene da Altani in questa vignetta. Costruire la propria felicità, anche se farlo vuol dire farlo a discapito di qualcun altro. Ma se pensare al futuro, fare progetti, sognare vuol dire appunto collocarsi in un futuro che è diventato inospitale, allora dove la cerchiamo la felicità? E finisce che noi la felicità la cerchiamo qui, e ci trasformiamo da cittadini a clienti. cambiamo la nostra prospettiva dal desideri, che vuol dire proiettarsi nel futuro, vuol dire creare rapporti con gli altri, alle voglie che si soddisfano immediatamente, che bruciano le cose, ma anche le relazioni, persino i rapporti interpersonali. Bauman ci dice che vengono sottoposti alla logica del soddisfatti o rimborsati. Quando una relazione non mi va più, non c'è tempo per la manutenzione degli affetti. Ma si cambia, si sostituisce, si passa oltre. E così si delinea il profilo dell'uomo consumatore. E com'è fatto l'uomo consumatore? Ecco, questa è un'altra vignetta di Altan che lo racconta molto bene. Il consumatore ideale è una persona che è spinta da spinte primitive, infantile, vorace, volubile, sempre in cerca di nuove gratificazioni. È una persona che agisce distinto. Meglio non pensare, meglio non chiedersi se vale davvero la cosa che stai per comprare, se davvero ti serve, non hai soldi, non importa. Pagherai in comoderate a cominciare dall'anno prossimo. L'importante è soddisfare i propri istinti. Fai quello che ti senti. Questa è la raccomandazione che ci sentiamo fare sempre più spesso. Questo spesso è il consiglio che noi diamo ai nostri amici quando ci chiedono un consiglio, anche sulle decisioni importanti. fai quello che ti senti. Siamo noi, come Narciso, il centro del mondo. Se va bene a noi, tutto il resto non conta. L'importante è che noi siamo felici. Ce la raccontiamo così. Ma la felicità non è un piacere solitario. La felicità ha a che fare, l'abbiamo visto prima, ha a che fare con lo stare insieme. La felicità si costruisce con gli altri. La felicità non è assenza di regole. La felicità è protetta dalle regole, come la libertà. Perché ha a che fare con la libertà. Noi quindi pensiamo che la vita emotiva sia la parte più sincera di noi, la più autentica. La razionalità non serve. Serve solo a rallentare, a nascondere, a mascherare. Questo è il vero io. Ma non è davvero proprio così. Anche il nostro mondo interno, anche le nostre emozioni, anche il modo col quale noi esprimiamo le nostre emozioni, sottostà ed è condizionato dalla società. Da Freud a Norbert Elias a tanti. Ormai sono concetti assodati. Quindi, e la politica? E la politica, anche lei, sta seguendo la via del colon. Come dice Starnone su Internazionale. Parliamo alla pancia della gente. I politici bravi sono quelli lì, quelli che parlano alle nostre parti basse. Adesso è un bel dialogo fra intestino e intestino. Siamo in questa logica qui. Mobilitiamo le emozioni. Già questa cosa non è nuova. Già i regimi totalitari del Novecento avevano applicato con metodo questa tecnica. Ma anche le democrazie moderne, i nuovi nazionalismi, i populismi, si muovono secondo questa logica qui. E questo poi porta a una semplificazione anche del dibattito politico. Noi ci muoviamo, secondo la logica, un po' da tifosi del calcio. Giusto o sbagliato? Noi loro? Buoni e cattivi? Bene e male? La razionalità è lenta di discorsi approfonditi. Non c'è tempo. Non ci piacciono. È meglio imboccare appunto quella che è la via del colon. E le istituzioni poi finiscono. La politica poi finisce per passare da interessarsi del bene comune, da interessarsi del futuro, alle felicità individuali del qui ed oggi. poi le conseguenze, poi i debiti, qualcuno li pagherà. Si arrangeranno quelli che vengono dopo. Qui c'è una citazione di Euripide, che i greci avevano già capito tutto, sulla democrazia, sui rischi della democrazia. E poi, naturalmente, se noi seguiamo questa via, la via della bassa emotività, dell'impulsività, finiamo per sostituire l'empatia, la carità e la pietà ai diritti. Anche nei nostri comportamenti d'acquisto, non sempre ci rendiamo conto che quando acquistiamo dei voli a basso costo, quando acquistiamo delle merci che costano poco, lo scambio è sempre un'accessione di diritti. Dietro c'è sempre gente che ha perso dei diritti e che lavora senza le garanzie che ci sono sempre state e che hanno sempre protetto le persone che lavorano. Questo è una forza degli aspetti e delle rimozioni che noi mettiamo in atto. E poi c'è quest'altra cosa, il rapporto con... Noi spesso siamo in rapporto col mondo attraverso la superficie sottile degli schermi, dei nostri televisori, dei nostri telefoni, dei computer. E il lontano ci appare prossimo, sì, però senza profondità, però superficiale, dove tutto è uguale. Zikron B, hashtag, I feel good. Questo è quello che ha scritto un gruppo di studentesse quando hanno visitato Auschwitz. Nello stesso tempo erano tristi per la tragedia che ha riguardato gli ebrei, ma anche contenti in una schizofrenia emotiva che non è nuova e non è strana. Voi provate a guardare la televisione mentre ci danno la notizia delle centinaia di morti di uno tsunami, di un terremoto, sotto scorre la striscia con i risultati di calcio o con l'annuncio che fra poco ci sarà l'intervista a un famoso comico. E allora siamo appunto in una specie di scissione, di schizofrenia emotiva. E allora cosa fare? E allora quello che dovremmo fare è quello di portare le emozioni in alto, dalla pancia al cervello. Noi non siamo solo emozioni. Noi siamo emozioni e cervello. E allora le emozioni si possono elaborare, i comportamenti si possono ricondurre alle emozioni che le hanno provocate. Anche quando a volte queste emozioni, questi comportamenti, sono quello che Spinoza chiamava le passioni tristi, i sentimenti che ci rimpiccioliscono, l'odio, il rancore, la rabbia, l'invidia. E cercavo, se devo dire un esempio, un qualche cosa per chiudere questa conversazione con voi, e a certo punto mi è arrivata la voce di una regina. Non avevo preso le gocce e ho sentito la voce della regina. Ecuba, nelle Troiane, Euripide, siamo 2500 anni fa circa, nel 416, decide di raccontare la guerra, è in corso la guerra del Pienoponneso. Non attraverso grandi imprese, l'epica, le sfide e i duelli, no. Lui racconta la guerra dal punto di vista dei vinti. ci racconta che la guerra è sangue, è vendetta, è sopraffazione. Proprio in questi giorni è stato assegnato il Nobel per la pace a due operatori che hanno combattuto e reso pubblico la metodologia dello stupro di guerra. Questo è la guerra. Non è fatta solo da eroi. E allora c'è questa regina, alla quale hanno ucciso il marito, alla quale hanno ucciso i figli. Questa donna resa schiava, ma non umiliata, che rimane grande perché sa guardare in faccia il dolore. Questa donna alla quale alla fine i greci, per paura che il figlio di Ettore diventasse grande come il padre, per paura che potesse un giorno vendicare tutto quel sangue, allora questa donna alla quale portano questo piccolo corpo, un soldato depone il piccolo corpo accanto a lei, così parla e così si rivolge ai greci. Ecco, guardate, avete avuto paura di un bambino. Questa è la voce della regina, ma la voce della regina noi la possiamo forse sentire ancora tutte le volte che ci rendiamo conto che ci siamo lasciati trasportare dalla voce della pancia invece che integrata da quella del cervello. E credo che ci sia successo di sentire la voce di questa regina quando nello schermo sottile dei nostri televisori è arrivata questa immagine. ancora una volta un soldato, ancora una volta un piccolo corpo. Forse anche noi, guardando quella foto, abbiamo sentito la voce della regina e abbiamo capito che avevamo avuto paura di un bambino. Grazie.